El Reier la seconda semifinalista che andrà ad incrociare le armi con Milano dopo una gara vinta contro la Virtus. Venezia subito in velocità, vola più 9 in avvio contro una Sega Freddo che vede la prima tripla sul quarto tentativo dopo 7 minuti. Venezia corre, Bologna cammina e anche in area comandano gli Oro Granata e Bianconeri mancano invece i contropiedi. Markovic e Wims rispondono alle folate di Tonut. Hunter resta l'arma letale in area e sul meno 10 con il terzo fallo di Watt l'idea di giocarsela da sotto solletica ancora di più. E' sempre l'irreale Tonut a guidare nell'ultima frazione a spingere lontano 14 punti una Bologna nervosa punita anche con due tecnici. Non si rialzerà più.